A molti basta per una contemplazione suprema e assoluta della natura una sola gemma qualunque. Il fascino esercitato sull'uomo dalle gemme dei metalli è antico come il mondo, basti pensare ai gioielli dei sovrani e ai paramenti sacri realizzati per essere usati quale simbolo e forte stimolo di saggezza e autorità. È impossibile trattare un argomento così vasto in così poco tempo, soprattutto perché è collegato a tante altre materie, ma ogni informazione potrà essere uno spunto per approfondire la ricerca. Per quanto ai nostri sensi il mondo minerale possa apparire statico, inerte, privo di vita, oggi sappiamo che il cristallo trasmette e riceve costantemente energia. Attività, in greco si diceva energeia, che significa anche opera, azione che produce effetti, energia. In effetti la materia non esiste e tutto è energia. Energia emessa ed energia assorbita. Questo è lo scambio trasparente e vitale, che interagisce anche quando non ci è possibile constatarlo con i cinque sensi. Al comune senso della vista non è dato vedere l'infinitesimale, ma con l'ausilio di un microscopio è possibile verificare che anche ciò che appare statico e inerte, quindi ai nostri occhi privo di vita, invece è un rapidissimo movimento di azioni e reazioni, di elettroni intorno ad un nucleo, con spazi vuoti retti da questa attività, da questa energia. Questi spazi poi variano a seconda dell'interazione di un'energia con un'altra, ed è così che la materia, e cioè l'energia, passa da uno stato all'altro, solido, liquido, gassoso, elettromagnetico o radiante e in forma di plasma. L'uomo è per tutta la vita un circuito aperto, una rice trasmittente che trasforma le energie che riceve dall'esterno. I segnali entrano attraverso delle bocche, anticamente definite dagli orientali, chakra. Questi centri vitali a forma di imbuto, di turbine, di vortice, sono in quantità enorme, ma i principali sono sette, tutti in corrispondenza del canalis centralis, situato nella colonna vertebrale. Meritano attenzione anche quelli situati nelle mani e nei piedi. In Oriente si è sempre ritenuto che l'energia fosse materia, sottile, invisibile e sensi ordinari, ma pur sempre materia. L'ayurveda, ovvero scienza della vita, è nato in India ed è la medicina più antica che ci sia stata tramandata. Secondo questa tradizione, l'uomo è una condensazione di energia cosmica, un microcosmo la cui salute fisica e mentale dipende dall'equilibrio di ciò che emette e di ciò che riceve. Le influenze planetarie agiscono sugli organi del corpo e le gemme, la cui energia è governata dai pianeti, di cui rappresentano la rispettiva condensazione colorata, possono essere utilizzate come farmaci. Per ogni segno zodiacale vengono indicati una pietra ed un metallo, ma la corrispondenza voluta dalla tradizione si riferisce a ciascun pianeta, definito signore di una costellazione. Un buon medico indiano esaminerebbe attentamente il quadro astrale completo prima di poter prescrivere una gemma. Nella Ayurveda, medicina e astrologia sono intimamente connesse. Le energie fondamentali, dosha, sono tre, vata, vento, pitta, fuoco, kafa, acqua. Se riferite alla mente vengono chiamati guna e sono movimento, luce ed inerzia. Vento o movimento influenzano gli individui attraverso i pianeti Mercurio e Venere. Fuoco o luce attraverso il sole, la luna e Giove. Acqua o inerzia attraverso Marte, Saturno e i Ketu e Rau che sono i due nodi lunari. L'uso delle gemme e dei metalli, energie planetarie condensate, può, senza effetti collaterali, riportare in armonia un equilibrio compromesso. Molti degli oggetti che ci circondano e che usiamo quotidianamente funzionano a cristalli. Computer, laser, orologi, eccetera. Ma cos'è un cristallo? Un cristallo è una formazione regolare di atomi che cresce nello spazio. I cristalli e le gemme non vanno considerati come oggetti magici, o almeno lo sono tanto quanto qualunque altra manifestazione naturale. Il quarzo è composto di silicio ed ossigeno ed in percentuale variabile dallo 0 al 20% di acqua. Ha una struttura a traliccio e gli elettroni dei suoi atomi hanno un legame molto debole per cui quando si agita un cristallo o lo si stringe tra le mani, rilascia i suoi elettroni. Quando poi lo si lascia, ne attrae di nuovi. Di fatto i cristalli, e soprattutto il quarzo, ricevono e trasmettono costantemente energia. Attraverso il pensiero ed una giusta volontà intenzionale potranno agire sull'energia umana, riarmonizzandola ed amplificandola. Si può creare un campo energetico disponendoli a triangolo intorno al corpo. Nella terapia con i cristalli si possono usare pietre o metalli allo stato grezzo, acquistabili in un buon negozio di minerali. Sono ugualmente efficaci e niente affatto costosi. Il metodo più semplice consiste nello sdraiarsi comodi, poggiando il cristallo sulla zona in cui si intende agire, meglio ancora praticando un semplice esercizio di rilassamento. Questo esempio è per ottenere una maggiore forza di concentrazione. Sarà meglio cominciare con l'amplificatore d'energia per eccellenza, il quarzo ialino, quello trasparente, comunemente detto cristallo di rocca. Per equilibrare tra loro i principali vortici si possono usare Quarzo con tormalina nera, fumè, citrino, rosa, ialino, quarzo ospitante, quarzo ametista e quarzo rutilato. Oppure gemme adatte per vibrazione ad ogni chakra, come ematite, corniola, topazio, smeraldo, lapislazzoli, zaffiro blu e quarzo erchimer. La tensione va diretta su ogni vortice energetico dove sarà appoggiata la pietra, seguendo il ritmo del respiro, senza modificarlo, come se entrasse l'aria soprattutto nella zona dove il cristallo è a contatto, e visualizzando una spirale che si muova in senso orario per ognuno dei vortici o chakra principali, ad eccezione del quinto, quello della gola, che ha un movimento anti-orario. Sarà così possibile purificare e riarmonizzare il nostro campo bioplasmico o aura o corpo eterico, al fine di sciogliere blocchi energetici causa di malattie. Il quarzo ametista è violetto per la presenza di ferro e questo colore, ai margini dello spettro, ha la sua migliore entrata nel settimo vortice, situato sulla testa. Le sue vibrazioni raggiungono ambedue gli emisferi cerebrali. La fama di Pietratriste gli deriva dal colore indice di penitenza e dal fatto che aiuta a vedersi per ciò che si è. Le riprese sono effettuate al fotomicroscopio modello 3 Zeiss, a luce cosiddetta a contrasto di fase e a luce polarizzata, ovvero emessa su un'unica banda di colore. Viaggeremo all'interno delle gemme, rammentando, come scrive George Sand nel suo Viaggio nel Cristallo, che il nostro io non risiede soltanto nei nostri organi, ma è legato in modo indissolubile alla vita universale. Un ottaedro, una doppia piramide immersa su matrice di chimberlite, è un diamante. I diamanti più pregiati sono privi di ogni difetto e incolori, anche se si trovano esemplari gialli, rosa, blu e raramente verdi. Si tratta sempre di carbonio purissimo, lievemente colorato dalla presenza di azoto o boro o altri gas ed elementi rari. Queste macchie nere, sempre di forma trigonale, erroneamente definite carboni, sono in realtà dei vuoti. Sono spazi, cristallizzazioni in negativo, diciamo così, che appaiono bui. Il diamante vibra nel coronale e ha influenza su tutto il sistema nervoso. L'immagine più infinitesimale, la cella base, qui siamo a 300 ingrandimenti, ha sempre la forma della struttura intera. Non si sa in quanto tempo si formi un cristallo, ma è certo che la cristallizzazione una volta avvenuta non è più soggetta a modificazioni e l'immagine più infinitesimale ha sempre la forma della struttura intera. Come in un ologramma, immagine tridimensionale ottenuta con raggi laser, ogni piccola parte è sempre l'immagine intera. E così, in un cristallo, ogni minuscola parte contiene tutte le informazioni del tutto. Microcosmo e macrocosmo hanno la stessa natura, per forma, struttura e qualità. Anche il colore rosso di questi preziosi rubini non risulta fedele. Sempre ai margini dello spettro, all'opposto del viola, non a caso il rosso è il colore del primo chakra in corrispondenza del sacro, mentre il viola lo è del settimo, il coronale. I sette raggi, che costituiscono l'arcobaleno, lo spettro, luce scissa per rifrazione, sono segmenti di colore che in differente proporzione formano un'ottava cromatica che corrisponde, per vibrazioni, ad un'ottava musicale che va dal Do fino al successivo Do superiore. Questo ingrandimento mostra i piani di accrescimento di un rubino. come possiamo notare ora negli ingrandimenti maggiori. Il colore, rosso, dato dalla presenza di cromo, ricorda il sangue ed immerso con noi nella vasca da bagno gioverà al vigore e a migliorare la circolazione. La sua vibrazione viene amplificata dal sole. Fratture e inclusioni sono quasi sempre presenti. Ecco perché il rubino dei laser, perfetto e puro ossido di alluminio, viene riprodotto sinteticamente. L'elettrone citato produce fotoni che rimbalzano all'interno del cilindro del rubino fino a che ne esce il potente raggio, perfezionato ed utilizzato sempre più dal 1960, anno della sua scoperta, fino ad oggi. sempre della famiglia dei corindoni ma colore blu per gli zafferi. La migliore entrata è dal cardiaco e la sperimentazione lo segnala come antidepressivo e attivatore dell'intuito. Utilizzandola, qual esempio, entriamo nel cuore di questa inclusione e constatiamo che il cuore di pietra, a differenza dell'uso di questa definizione, pulsa, ha una precisa vita all'interno. Basta un po' di calore ed il cuore batte, esplode gioiosamente. Detto in seri termini tecnici, assistiamo al passaggio dallo stato gassoso liquido di questa inclusione di biossido di carbonio ad un'amalgama, alla totale trasformazione in liquido e viceversa. Ciò avviene a causa della reazione al cambio di temperatura che al di sotto dei suoi 31 gradi e mezzo si trasforma in liquido, al di sopra è gassoso. Praticamente, un cristallo poggiato sul corpo umano che ha una temperatura basale di circa 36-37 gradi subisce con certezza questo passaggio da uno stato all'altro. Per non parlare delle variazioni causate dalla luce e dal calore del sole, già semplicemente portando una gemma al dito. Questo passaggio da uno stato all'altro dell'energia, della materia dunque, consente di comprendere, almeno parzialmente, perché sin dai tempi più antichi, le pratiche sciamaniche e terapeutiche in genere consiglino di sciacquare un cristallo dopo l'uso sotto un getto d'acqua fredda per almeno un minuto. All'interno dell'inclusione, che è di circa un millimetro, è imprigionata la pressione in atmosfere che c'era al momento della formazione del cristallo, sigillata e protetta, indefettibile. Quindi solo delle condizioni critiche, quali ad esempio calore o la rottura, potrebbero farla scoppiare. Ma anche tornando nell'aria non scomparirebbe, bensì si trasformerebbe in un nuovo ciclo vitale. Gli atomi del carbonio si possono concatenare uno all'altro in modo illimitato, dando origine alla chimica organica, alla vita. Un essere umano è composto al 70% di acqua, al 20% di carbonio e per il resto di vari elementi e tracce di oligoelementi. Il berillo inquadrato non è un'acqua marina, bensì il più prezioso cugino smeraldo. Anche qui un problema di fedeltà di colore. Il verde merita un'altra osservazione. La luce verde è una delle porzioni dello spettro solare più ricche d'energia. La clorofina è verde poiché questa è la porta dello spettro che essa non è capace di sfruttare. Il colore di un corpo è l'insieme delle lunghezze d'onda che il corpo non assorbe, cioè riflette. Un corpo bianco non assorbe affatto e un corpo nero non riflette. Il verde è tra il giallo ed il blu, corrisponde al fa dopo un mi e nell'ottava musicale sappiamo che lì manca il tasto nero, come tra il sì violetto ed il successivo dor rosso dell'ottava superiore. Lo smeraldo stimola la circolazione linfatica, il muscolo cardiaco e rafforza la memoria. La migliore entrata vibrazionale è nel quarto chakra, il cardiaco. Questi topazzi non vanno confusi come spesso accade con i quarzi. Quello giallo potrebbe essere un quarzo citrino o un ametista sottoposto a forti temperature, mentre il topazio blu potrebbe essere scambiato per un berillo acqua marina molto più prezioso. La luce polarizzata mostra differenti colori e da come queste implusioni reagiscono allo spettro notiamo quanti coefficienti di differenti energie ci sono all'interno di una pietra. Il topazio aiuta a controllare le emozioni negative, sarà prezioso per la fame nervosa e stimolando la rigenerazione dei tessuti aiuterà a prevenire antiestetiche rughe. Provate a lasciarlo in una crema per la pelle, l'epidermide si tonificherà più velocemente. Questi effetti di luce aloni, effetti iris, arcobaleno non possono essere notati dal comune senso della vista ma questa energia trasparente è in continua variazione col variare della luce e come abbiamo già visto del calore che attraversa il cristallo. Un'antica usanza cinese consiglia di piazzare questa gemma il topazio sulla porta d'entrata di casa attirerà i raggi del sole. Insomma nello stesso modo in cui la luce si riflette nelle pietre o nei cristalli le vibrazioni di una gemma risuonano nel nostro campo energetico. Se lo facciamo consapevolmente di stato di decontrazione abbandonando tensioni e mettendo l'attenzione sul respiro senza modificarlo potremo ottenere dei veri risultati terapeutici anche in coppia. Nel caso di un anello poi bisognerebbe tenere conto che ad ogni dito arriva un meridiano energetico e che vi corrisponde un preciso atteggiamento mentale. Quando un cristallo non si usa sarebbe meglio riporlo in una scatola di legno immerso in polvere d'argilla. Per caricarlo cioè per amplificarne la potenzialità si potrà usare una piramide oppure un dodecaidro è importante che dopo l'uso si abbia l'accortezza di purificarlo tenendolo almeno un minuto sotto l'acqua poi soffiandovi sopra da una parte e dall'altra. I granati appartengono al sistema cubico ed essendo spesso raccolti nei letti dei fiumi fluidati dall'acqua gli angoli si smussano e divengono grani da cui il nome. I granati rossi come il piropo e l'almandino bilanciano i problemi ormonali e hanno migliore entrata vibrazionale dal sacro. La famiglia dei granati è molto numerosa e complessa nome e colore variano col mutare dei suoi componenti ogni sostanza chimica ha un suo colore una precisa reazione allo spettro ed ecco inclusioni davvero speciali cristalli millimetrici di zircone metamitico uno zircone si dice metamitico quando ha in sé una radioattività in fase di decadimento cioè lacede questa componente radioattiva decade all'interno della pietra provocando un'emissione di energia radiante ponendo questo granato su una lastra fotografica al buio si potrebbe osservare dopo circa 24 ore che l'ha impressionata non c'è cristallo non c'è cristallo che più della tormalina presenti una gamma così completa di colori entriamo nel suo cuore quella blu aiuta a respirare meglio la verdelite aumenta la resistenza fisica la dravite giallo senape risolve disturbi neurovegetativi e intestinali lo sciorlo o tormalina nera non dovrebbe mancare a chi lavora al computer fa da scudo alle radiazioni tossiche la tormalina angoria merita un'attenzione speciale chi medita e lavora su di sé troverà un'alleata preziosa in ogni senso il nome fluorite fluoruro di calcio significa fluire e a seconda del colore si potrà utilizzare per migliorare l'efficienza dei principali vortici energetici quella viola è di grande aiuto a chi svolge un lavoro intellettuale e sotto il cuscino vibrerà anche mentre dormiamo se ci interessa lavorare sui sogni le sue proprietà si amplificano esponendola alla luna forma colore sostanza di una gemma vibrano nel nostro campo energetico ma una volta purificata con un elaborato processo può essere addirittura ingerita sotto forma di lesire omeopatico o di cenere da secoli infatti i medici ayurvedici usano gemme e metalli sotto forma di bashma cenere realizzati a caldo o pishti polveri trattati a freddo dall'analisi del polso si può rilevare se uno o più dei tre dosha o energie vitali sia scompensato potremmo sentirci prescrivere per offrire solo qualche esempio perla stimola la digestione la virilità la longevità la vista e il colorito è utile nelle febbre croniche malattie delle ossa asma bronchiale e malattie di cuore le polveri di perla devono essere ingerite con latte o panna o burro agata utile per le emorragie le malattie del cuore per i denti e le gengive per la cura del tratto urinario e dei calcoli rubino afrodisiaco tonico cardiaco e stimolante la digestione e il metabolismo va assunto con il miele diamante eccellente ringiovanente come forte rigeneratore cellulare viene prescritto nella terapia delle forme tumorali utile nel diabete potenziando la forma fisica aumenta la vista e migliora le facoltà intellettive se associato ad altri farmaci ne esalta le proprietà oro stimola la memoria e indicato per i disturbi nervosi problemi della voce asma bronchiti quale antidoto ai velemi diarrea cronica alopecia la cristallizzazione dei metalli preziosi è dendritica cioè ramificata così come si chiamano dendriti per la loro forma alcune terminazioni di una cellula neurale forse abbiamo trascurato un'importante domanda cosa è la malattia è un pensiero sbagliato l'equilibrio della mente può ricondurre l'uomo ad essere canale tra cielo e terra tra natura e cosmo microcosmo e macrocosmo sono intimamente collegati lo stato di salute del pianeta è la proiezione dell'equilibrio dell'uomo il regno minerale è dunque vivo e strettamente collegato agli altri due per comporre quella rappresentazione piramidale che l'uomo si è fatto della natura sta all'uomo sensibilizzarsi a ricevere questa o quella energia con atteggiamento cosciente non perdendo mai di vista pur nell'importanza della ricerca analitica una visione globale di cui è parte integrante e non punto d'osservazione di staccato come non concludere dopo tutte le osservazioni rilevate che è un po' poco ritenere le gemme solo ornamenti o ancora peggio porta fortuna alla scienza il compito della dimostrazione sperimentale ad ogni uomo lo stimola ad una profonda ricerca che è un po' poco Grazie a tutti.